Bene amici oggi proviamo l'Honor V8 ma sarà un'introduzione particolare perché? Perché facciamo l'unboxing ora e qua, spiegato il perché, questa scatola diventa un visualizzatore di VR molto bella la confezione come è composta questo è un pacchetto molto importante perché dentro ci sono le lenti e gli oculari proprio per montare il nostro lettore, la nostra scatolotta per farci vedere la realtà virtuale praticamente a costo zero vediamo in quest'altra scatola che lo troviamo, il caricabatterie veloce, esce a 9 e 6 volt ci mette veramente poco in due ore, il telefono è completamente carico ma già in mezz'ora ha praticamente il 40-50% di batteria e poi in quest'altro scatolotto troviamo l'USB che è di tipo C e poi basta perché non ci sono dentro le cuffie tipo C lo vedete qua sotto ma bando alle ciance il telefono lo guardiamo dopo, proviamo a costruire ok, lente numero 1 montata, ok, anche la lente numero 2 montata anche la nasella è montata, adesso accendiamo l'onor, basta sbloccarlo, si sblocca veramente in un attimo acceso, mettiamo dentro, chiudiamo la cupoletta per fare ombra e vediamo se funziona funziona! ma andiamo a vedere se funziona anche il telefono e non solo lo scatolotto si ma andiamo a togliere il vuoto da questi occhiali economici fatti in casa, nel frattempo l'ho spento in centro pneumatico con ma ovviamente con la scatola del P9 Plus perché è l'antagonista, l'alter ego, il cugino un po' sfigatello non lo so, lo andremo a vedere durante la recensione ma poi farò un versus tra due telefoni prima di tutto guadagno un pulsante, questo che è un pulsante personalizzabile poi andremo a vedere cosa gli si può far fare secondo me è posto male, è posto in una situazione sbagliata perché è vicino al pulsante di accensione e del volume pulsante di accensione zigrinato e si riconosce ma questi due è vero, sono un po' diversi come forma ma quando si è nell'uso al volo è un attimo usare uno oppure sbagliando usare l'altro in prodotti cittadini che vengono riconosciuti benissimo come in tradizione Honor Huawei possono anche effettuare delle altre attività e poi abbiamo la doppia camera 12 megapixel con il doppio flash led e l'autofocus che è anche laser sopra infrarossi per comandare il set of box, un secondo microfono, il jack per le cuffie qua lo slot per o due nano sim oppure alternativamente una nano sim e una SD e sotto altoparlante, microfono e la USB tipo C davanti c'è ovviamente la fotocamera, c'è il led di notifica là che sta lampeggiando lo vedete perché mi sono arrivate qua un po' di notifiche e poi i classici pulsanti che sono a display, sensori di luminosità, prossimità, insomma le solite cose è costruito molto bene, il vetro è un vetro stondato ai bordi, vedete, completamente in metallo tranne questa parte qua sopra che non ho capito se è in plastico o in vetro comunque il design non è male batteria 3500 mAh, dura tanto vi faccio subito vedere gli screenshot della mia giornata stress dell'altro ieri come vedete la batteria è stata consumata in maniera abbastanza uniforme ho fatto veramente tanto 4G, tanta strada e poi ve la racconterò quando vi farò vedere le foto in questa giornata insomma sono arrivato a sera con 4 ore e 49 minuti sono arrivato alle 21.30 più o meno una giornata normalizzata stress mi fa arrivare al 10% di batteria del sito quindi buona l'autonomia praticamente come il P9 Plus andiamo a vedere invece la galleria, che stupido che vado avanti indietro per farvi vedere le foto di test perché voglio parlare del display abbiamo un IPS 5,7 pollici è un telefono padelloso 386 ppi full HD è presente in due versioni in commercio questo telefono questa che è la full HD col Kiri 950 per quanto riguarda il processore ma c'è anche la versione con display QHD e Kiri 955 sinceramente questo display funziona bene il sensore di luminosità non è luminosissimo sotto il sole ma è un buon display non si sente la necessità sinceramente del display QHD si può modificare il layout della home page qua vedete le altre opzioni per quanto riguarda proprio la schermata iniziale vi faccio vedere le opzioni per questo pulsante che è un po' la novità di questo V8 intanto vi faccio vedere anche la possibilità di profonda personalizzazione della, della, vi faccio vedere subito Emotion UI 4.1 basata su Android 6.0 e io ho la versione 4 GB di RAM 32 GB di memoria integrata qua assistenza intelligente oltre all'inutile pulsante sospendi alla possibilità di personalizzare la barra di navigazione io ho attivato il pulsante per abbassare le notifiche perché comunque è comodo è un telefono grande è vero che c'è la gesture per usare una mano vedete questa e devo dire affidabile l'ho utilizzata in questi giorni ma andiamo subito al tasto smart tre possibilità di personalizzazioni più la possibilità di registrare la chiamata tenendolo premuto in conversazione pressione, pressione doppia oppure pressione prolungata e possiamo abbinare qualsiasi applicazione che abbiamo installato sul nostro telefono quindi molto comodo per il resto, per il resto non abbiamo novità rispetto alle Emotion UI 4.1 che abbiamo visto sul P9 gestione di batteria approfondita che ha la possibilità di abbassare la risoluzione a 720 per minuto 80 per risparmiare un po' i dati che vi ho fornito sono stati rilevati con la modalità prestazioni su intelligente diventa un pochino più lento ma non cambia tanto la durata della batteria quindi io consiglio prestazioni e poi c'è la modalità ultra che ormai conosciamo veramente benissimo torniamo alla home page allora questa è la versione asiatica facciamo delle precisazioni qualche applicazione cinese preinstallata c'è si possono disinstallare praticamente quasi tutte alcune di queste non sono diciamo occidentalizzate per esempio guardate questa o per esempio anche se entro banalmente tra l'altro vi faccio vedere che c'è l'applicazione solita classica di tutti i Huawei per gestire in maniera approfondita il telefono c'è anche l'applicazione benessere che ci conta automaticamente i passi per esempio se vado nella no, nella galleria no ma nell'opzione dei video qua sopra vedete si può andare in Huawei Video e anche qua andare a visualizzare video ma completamente in lingua asiatica il Play Store è comunque preinstallato quindi non dovrete impazzire per cercarlo invece qualche problemino di sincronizzazione con i contatti comunque su Grosso Shop dove ho comprato questo telefono c'è già una guida per sincronizzare anche questi detto questo proviamo a utilizzarlo chiamiamo il 190 servizio clienti Vodafone attiviamo la viva voce ci alziamo il volume viva voce che esce da una cassa di queste due qua sotto benvenuto in Vodafone per la telefonia mobile e internet con smartphone chiaro il tetto allora come sentite si sente molto bene ho detto entrambi ma in realtà uno è il microfono e l'altro la cassa niente da dire sulla parte telefonica se non che manca la banda 800 MHz sull'LTE poco male io non ho trovato problemi con Vodafone magari chi ha altri gestori potrebbe avere qualche criticità la ricezione è buona sia in wifi sia in 3 e 4G c'è tutta la possibilità del plus wireless LAN, segnale, roaming che migliora la ricezione veramente a quel punto di vista lì nessun problema vi parlo un po' di come gira il telefono beh gira velocissimo guardate in quanto poco tempo ha aperto il gestore delle pagine Facebook che vedete è subito molto fluido e reattivo oppure facciamo il solito trittico apriamo anche Instagram tra l'altro vi ricordo l'aperitivo 10 giugno 18.30 via le mazzini 101 a Roma con anche product manager di Huawei sarà una grande festa un grande aperitivo avete visto come gira bene e anche Twitter veramente è un telefono che non ha nessun problema abbiamo il multitasking a me non piace ma è quello di Huawei Ono dell'Emotion UI è così e ce lo dobbiamo e ce lo dobbiamo tenere torniamo alla home page bello il feed della vibrazione ecco sulla tastiera una cosa strana ovvero ovvero provo a scrivere una cosa nessun problema quando scriviamo qualsiasi cosa bello il feed della vibrazione va veloce prende bene i nostri tocchi ma stranamente quando dobbiamo digitare una password la tastiera cambia e non si riesce a utilizzare la tastiera che noi abbiamo installato tipo in questo caso quella stock di Google preinstallata c'è la swipe ma utilizzo un'altra tastiera che sinceramente boh non so in Cina probabilmente avranno già tutte le mie password vabbè tant'è avete visto come è veloce andiamo a aprire il browser anche il browser è fulminio guardate automoto.it si è aperto veramente velocemente browser intendo intendo Chrome guardate come è veloce sia nello scroll sia nello zoom nel pan veramente molto veloce anche il gaming a Real Racing si gioca in maniera veramente veramente piacevole ma parliamo di multimedialità perché la fotocamera sarà uguale a quella del P9 senza marchio Leica oppure sarà un'altra fotocamera farò per per rispondere a questa domanda proprio un focus una una comparativa fotografica tra questi due telefoni la cosa che posso dire è che le foto vengono molto bene che la velocità di mezza fuoco non è fulminia insomma mi sembra che abbia gli stessi pro e contro del P9 plus se facciamo una swipe versione alto però vediamo come non c'è la modalità in bianco e nero probabilmente è stata mantenuta solamente sul P9 plus però abbiamo la modalità pro foto e pro video guardiamo i parametri che possono essere messi in manuale questi sono i parametri della parte fotografica mentre questi sono i parametri che possono essere messi in manuale per quanto riguarda i video altra cosa interessante è questo il panorama 3D adesso non ho un modello da fare vedere ma ve lo faccio vedere poi nelle foto che ho scattato anzi no perché guardate ve la faccio la panoramica 3D perdiamo questi due secondi si tiene premuto il pulsante inizia a scattare foto si ci si muove verso la freccia che viene indicata sul display e si scatta la fotografia poi si clicca qua su questo cubetto il telefono fa una sorta di elaborazione tridimensionale calcola i suoi poligoni non so bene che cosa che cosa faccia vedete sta lavorando tra l'altro un telefono che non scalda praticamente mai qua dietro adesso che sta lavorando tanto non ha scaldato e guardate se io poi a posteriori vado a muovere il telefono praticamente riesco a vedere buzz ovviamente una foto posso anche toglierlo e continuo a vederlo da ogni angolazione è una cosa che mi è piaciuta carina andiamo però nell'album delle fotografie altrimenti detto galleria ok andiamo indietro andiamo qua all'album della fotocamera e partiamo con il racconto della giornata stress di ieri così capite la batteria quante cose ha fatto e come è e come è sopravvissuta sveglia alle 7 partenza per Balocco circa 100 km in autostrada arrivo e sorpresona lancia 037 del mitico Bettega intanto facendo zoom guardate anche lì il nome purtroppo deceduto sempre su una lancia sulla S4 se non sbaglio delta integrale video video che vengono girati bene secondo me non benissimo come su P9 Plus meglio le foto dei video comunque non sono non sono male gran rumore di scarichi di queste macchine guardate la 4C di Alfa Romeo poi la 037 e poi attenzione a questa macchina la Trevi se non sbaglio Trevi non mi ricordo più il modello esatto la lancia Trevi con doppio motore e compressore volumetrico su un motore quindi una trazione integrale fatta da due motori posteriore della 037 guardate dentro questa Trevi che sembrava una classica berlina da famiglia guardate i sedili assolutamente l'antitesi della sportività ma guardate dietro al posto dei sedili posteriori un secondo motore per avere una trazione integrale data da proprio due motori lo scarico del motore posteriore qua laterale veramente gran macchina Balocco ecco spero che Fiat non veda questa foto perché questa stracamuffata è il nuovo SUV di Alfa Romeo che girava nella pista di Balocco questo sono io sul nuovissimo Uconnect Live della 500 sto provando i servizi live carini arriverà poi anche CarPlay e Android Auto ma non divaghiamo perché poi come poteva mancare il ristorante quindi guardate questa foto con una profondità di campo particolarmente interessante messa a fuoco qua davanti dietro sfocato agnolotti del Plyn farò la recensione non mi hanno convinto particolarmente tre sedi dolci buono e poi scatti notturni lo scatto con diciamo l'apertura prolungata 8 secondi per fare questo scatto però molto bello guardate come sono definiti nonostante la poca luce tutti gli elementi di questa foto ma anche la foto fatta al volo è venuta bene ho provato a fare un bianco e nero perché? perché non c'è l'opzione specifica ma c'è il filtro e devo dire che non mi è piaciuto scusate mi è piaciuta mi è piaciuta questa invece è una foto fatta normale mi sentivo molto molto fotografo in questa mi sa che devo condividerla su Instagram questa foto perché è carino e poi la sera ovviamente nel frattempo ero tornato a Milano avrei girato foto video con questo telefono la balocco sempre in 4G la sera ancora in 4G perché Franco Pepe grande prizzaiolo era qua a Milano da Italy e allora come farci mancare la sua margherita sbagliata arriverà la recensione anche di questa buonissima non l'ho rivista di notte questo è Franco Pepe insomma è stata veramente una bella esperienza qua uno di voi grazie per per questo selfie insomma traiamo una conclusione foto e video a me sono sembrati veramente dico molto molto simili per non dire uguali a quelle del P9 Plus unica cosa il flash che sul P9 Plus si era comportato si era comportato meglio veniamo alle conclusioni allora per ora purtroppo non verrà importato ufficialmente in Europa intanto vi faccio vedere anche tutti gli strumenti che sono disponibili guardate guardate qua perché qualcuno mi chiede ma facci vedere un pochino più del telefono NFC che funziona bene GSM scusate GPS che prende bene vi stavo dicendo non verrà importato ufficialmente in Europa probabilmente per non pestare i piedi al P9 Plus che comunque gli rimane superiore secondo me quanto meno per il display questa ovviamente è una mia considerazione non è la posizione ufficiale di Huawei ma per questo farò un versus io l'ho preso da grosso shop a poco più di 400 euro a 500 c'è la versione con il Kiri 955 il display più definito secondo me non ne vale la pena in assoluto un telefono molto valido ma con due ma primo bisogna avere un mino di dimestichezza per ripulirlo un po' e sincronizzare i contatti ripeto c'è una guida ad hoc su grosso shop vale anche per il Mate 8 cinese due comunque qualche app e qualche alert in asiatico rimane tre è un telefono decisamente padelloso anche se fortunatamente non dei più scivolosi comunque bel lavoro di honor che mi ha invitato il 20 giugno a una presentazione vedremo cosa arriverà in Europa un saluto da Andrea Graiazzi punto com si si lo so mi sono dimenticato Mondense e allora stavo per andare a montare la recensione Mondense eccolo beh l'interfaccia è carina si sente bene dall'altoparlante qua sotto abbastanza potente mancano un po' le tonalità basse